Per questo oggi facciamo una sorta di challenge esperimento un po' particolare Praticamente voglio sperimentare e vedere se cambia qualcosa giocare con tutto a low o con tutto in high Quindi proviamo un gamer, dovremo tutti i settaggi in low e un gamer dovremo tutti i settaggi al massimo Ma proprio tutto, anche distanza visuale vicino Anche la distanza visuale, cara Oh mamma mia Già Quindi tutto nella prima riga Esatto Totalmente Esatto Ok, quindi primo match tutto a low, secondo match tutto al massimo Allora, prima cosa Mi son buttato per sbaglio Vabbè, difficoltà in più, dai, su, non cambia nulla Andiamo qua Cioè qua, volevo dire Beh, sì, proviamoci Allora, nel mentre volevo dire Ok Che le cose più importanti di Fortnite, per chi non lo sa, sono gli FPS che devono essere stabili Perché se ti scatta di FPS muori Certo E dopo che gli Hertz dello schermo Non tanto quindi le prestazioni del computer e quindi quanto tieni low, high, eccetera, eccetera Ma più che altro, appunto, gli Hertz dello schermo che cambiano moltissimo Vedremo se ci sono differenze anche nella grafica Esatto, infatti è proprio quella la curiosità Perché quelli sono i due valori massimi Allora, però adesso il personaggio sembra disegnato, tipo i bordi Non so se ci fa caso i bordi Allora, non esagerare C'è un team, eh C'è un team, c'è un team Anche perché noi dobbiamo stare fightando Infatti io volevo scendere tipo a pinnacoli ma sono caduto, per sbaglio Perché sei Steph? Perché sono Steph E io sono di nuovo Steph Ma perché cerco di giocare a sto gioco senza le cuffie? Perché sei Steph? Ok, risalto Quello si è visto quel bel fucile a pompa No, la prende prima di me Quindi me ne vado qua Mi chiudo qui dentro così nessuno mi vede E mi cerco una bell'aria Oh, cucciolo Avevi preso il fucile a pompa blu Però se qualcuno ha le messe di cieli distante è un problema E smetti, no, Steph? Uno su due morti Ed è stata una morte Uno su due morti È stata una morte low graphic L'ho capito, ma ti ho detto Eh, il tipo sembra arrabbiato Ah no, è felice che ti ha ucciso l'amico Cucciolo Ok, ho trovato un M16 Finalmente posso arrivare Allora, il primo ha preso cefoni Ok Cioè, il secondo ormai Perché il primo è morto Ok Finiti Va bene Hai fatto tutto tu, quindi va bene Non ho mazzo Non ho mazzo Dai, volevo valutarmelo Vabbè, quante ne puoi fare tanti Allora, vai Eh sì, perché volevo valutarlo Dimmi Quindi, Steph, come fightare con tutto low? Dai, hai fatto già due kill? Ma allora, in realtà Io gioco tutto low, Fede Ma non è vero Sì Io ho tutto 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 Low Outrun E la view distance Al massimo Ma perché? Perché mi trovo meglio Io no Ho tipo quasi tutto sul medio E basta Quindi In realtà Io avrò più problemi A giocare con tutto in AIG Perché ad esempio, raga Io non sopporto le ombre Io non sopporto le ombre No, ovviamente Sono odiosi Da quando l'ho tolta E sono rinata in suo gioco Steph, ti volevo dire Che qui dentro ce ne ho M16 verde Se ancora non ce l'hai Cara, ne ho 15 Ok Allora Infatti Ne stavo tenendo una verde da parte per te Pensate Uh, bello Di nuovo pompa Quello volevo dire Maledetta Viola E quindi dicevo Io avrò più difficoltà nel secondo match E non nel primo, ironicamente Infatti però Allora I miei set oggi sono in una via di mezzo Quindi non so cosa mi potrà dare più problemi Però è un po' strano Perché tutto con i bordi Cioè non lo so neanche spiegare Per me è normalissimo infatti ad esempio Quindi Boh, vabbè Non penso però che mi creerà troppi problemi Allora, Fede Muoviamoci con loot Però che qua bisogna stare fightando A lootare Puoi farlo con low Con AIG Con Con Spim Con Spiu boom La smetto Ok, perfetto Sto facendo un minimo di materiali Ho un equipaggiamento Passabile Ok Brutto Soprattutto Il fucile a pompa Perché è bianco Tattico Proprio Orribile Vediamo se Trovo qualcos'altro al volo Ti devo dare un Ah Niente Avevo uno shieldino per te Poi ti ho riguardato Ho visto che l'avevi già bevuto tutto Ok Mi spiace Ma dai Che va benissimo I fili dell'erba Mi stanno uccidendo gli occhi Ma c'è queste cose Sono stranissime Io gioco così Quindi mi stai dicendo nulla Ma come fai a giocare così? Ma i consolini vedono così No sui gameplay Sei un mostro Appunto Sei un mostro No mi trovo meglio No l'ambiente Cioè gli alberi Sembrano stuzzicadenti Quelle cose che metti sopra i panini Mamma mia le foglie Che brutte Sì ma questo deve fare la tragedia A me preoccupa la view distance Non so Fino a dove mi carica un player Ma neanche io Non la tengo così Quindi non lo so Non ho mai giocato un game Con la view distance Su Nier Quindi non ho idea lì Che cosa consegue Però abbiamo un airdrop di fronte Che ci darà il nostro bellissimo RPG leggendario Poi ci troviamo un lama Subito dopo Dieci player in fila indiana Che si fanno sparare E i muri hanno i bordi E i muri hanno i bordi E anche gli alberi E anche le foglie E anche le foglie No le foglie sembrano finte Sì Qualmente quelle di plastica Allora M16 verde lì sotto Dotto che ne abbiamo trovato Quanti ne abbiamo visto? Cinque mi sa Ci sta Quindi tanto ne ne trovi neanche uno Allora Dai qualcosa di bello Speravo anche player Ma non sembra Spero non ci sparino alla vigliaca L'ultimo che Ti bisogna stare attenti Che non arrivino da borgo 100 di shield Mi piace Anche se comunque Visto un player a 345 Ho sentito sparare alla destra? Io non l'ho sentito L'RG leggendario Ok Ok ci sta Ehm L'ho stabilitato Dopo averlo chiamato così tanto Mmm Così dai Ok Dicevo Un player Fatto un errorino Mi sa che questo Ve lo prendete Eh sì Una terra Uh Ora si va Avevo visto che avevano billato male Uh Headshot col cecchino nuovo Steph Ah non è morto Cioè mi ha fatto un colpo giallo Però non l'ha buttato a terra Quindi colpo giallo È legge Bene ma ho capito Ma mi hai distra Se tu esulti così Ho fatto Ah cavolo è morto E poi lo rivedo È un bel headshot Col cecchino nuovo Ho capito Ma mi hai fatto prendere danno gratis Ma non è vero Eh no Tieni Steph Allora tieni Guarda Tieni Così non rompi Ti stai zitto Guarda aspetta eh Così ti stai zitto del tutto Tieni Ok E mi prendo No no adesso Sei perdonata Ecco Dai era un'emozione incredibile L'ho visto illuminato Lish boom Bello Bello Capito ma era un'esultanza da kill Raga Cioè siete tutti d'accordo no? Vedete anche lo shieldone? Eh no No era un'esultanza da Finalmente ho preso un'accidente di cecchinata In testa Ma quello non è un cecchino Dai È più utilizzare il fucile Con mirino Però era il colpo giallo dell'headshot Va bene Comunque grafica tutto low Per ora Quattro kill Sterminio Messi bene Potremo Anche vincere Tranquillamente No per te la grafica Però Che bruttina Va fluido È liscio Capito? Esatto Ho capito Poi non ci sono le ombre Che non ti fanno vedere bene in un punto Che sei lì Tutto che stritti gli occhi Secondo me Tolta la via distance Raga Che poi sinceramente Non noto differenza Per essere sincera Ma la sconsiglio bassa Anche se io non noto differenza Però Anche io non sto notando differenza Però Meglio tutto low Con fps stabili Che tutto high Con qualche cala di fps Giusto togli un po' gli occhi Questa cosa Che è tutto meno dettagliato E un po' Lo trovo fastidioso Ma penso che ti ci abito Anche velocemente Quindi Never mind Una morta Ok Mentre parlavi Eh lo so Mi sono accorta dopo Perché stavo spaccando E non ti sentivo Ah ok Sta sparando Ok Forse c'è qualcun altro Perché altrimenti è brutto La scena è presa in metà E quindi adesso andiamo a imparare Tattico blu Por favor I need it So much Cioè le armi sono stranissime C'è la nuova arma qua C'è la nuova arma qua Va bene Eh quante Vabbè io sono già viola Quindi me la tengo Raga che Dai la prendo anche io Allora le vedo costruire lì Dal cratere Stanno uscendo Lo vedi Da dove? Maledetti Destra Che male ti ho fatto Allora colpiti entrambi Non sono messi bene Hai capito dove sono? 75 gradi Ti ho visto sparare Sì Ok Eccoli A uno ho fatto un headshot da 72 Non se lo dimentica Eh come l'ho fatto anch'io prima È uno a 36 Due volte mi pare Sa che mi muovo Ok Con testo Non rimango troppo indietro Bisogna fare attenzione Perché ce n'erano ancora più La sinistra Uscendo dal cratere Sì li ho appena sparati Eh li vedi? Che sono lì che zompettano Quindi Due 36 A quelli Però di shield Troppo alto sto salto Ah è odioso però Perché non mi rendo conto Perché non li vedo Uh colpito 35 di vita 36 due volte A quello di destra Io quello più a sinistra 35 vita Sì Io all'altro ho tolto 72 di vita Ok Sono bassissimi Ah sì sono bassissimi Tutti e due Io mi stavo mirando Ho messo la testolina fuori Bim Andiamo Bello sto fucile Mi piace Ci sta Caruccio dai Non vorrei sprecare mazzi Ma dobbiamo salire in fretta Perché Cavolo Steph Che brutto colpo ho preso Sia il cuore Sia la vita Cavolo Poi c'è l'altro Lì nascosto in piedi Che cerca di pigliarmi A terra A terra Quello di sinistra Brava Basta Bisogna Bisogna Tirarmi dalle bende Qua o se no Sono morta Mi tiro una benda Al volo E mi riparo Ucciso Ok Mi finisco di tirare Le bende Allora Era dietro Le foglie Proprio lì Non sapevo che Volevano risbucare Però devo dire Che hanno proprio fatto Il tempismo giusto Sì Sì Anche io non me li aspettavo Così in fretta Quindi errore nostro Però è andata bene Dai Sì A parte tutti questi Colpi presi Che non credo Che possiamo ripagarci Bene E sto buttando Un M16 blu Perché ho appena preso Una scar viola Ok Eh Beh non ho minimamente Anche tu cavolo Vabbè Che cosa Non abbiamo minimamente Più shield No Ok allora La nostra avventura finisce Mi sa No Non finisce Finisci tu Eh no no Non ce la facciamo E No Che non abbiamo neanche A colpi Sì ok Vabbè io ne ho pochini Cioè ne ho pochini Ma mi bastano No tieni Però guarda No 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 Vado a luttare qua Non c'è problema Ormai sono per terra Io li lascio lì Guarda ne ho trovati un sacco Hanno però sparato Ma non credo a noi Vieni a prenderti lo shieldone Mela 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 Ok sono quasi tornato full Dov'è? Eh Te l'ho preso io Se vieni da me te lo do E qua però ci sono i colpi Ok Eh shieldini Io mi prendo gli shieldini Ti lascio lo shieldone E uno shieldino Ok Sennò sono senza niente pure io Allora Ehm Il massimo che posso fare Un pump blue se ti serve Vado a prendere i colpi Dove c'è il muro In mattoncino Sì gliel'ho visto Sì gliel'ho visto Sì gliel'ho visto Ok pronta Sì Ho misclicato Attento anche accidenti staffa Come hai fatto a misclicare? Steph Dillo è colpa della grafica bassa No? Sì Vero? È stato solo quello Tu non miscliccheresti mai Ehi Forca Rimettila la testa fuori Con la view distance near No eh Peccato Ok E player dietro di noi Ah li ho visti Uno o due? Ehm Uno Sicuro Il secondo non lo vedo È nelle nostre costruzioni Ah ah Ho maledetto Quella è mia E però Hanno sparato anche Da sinistra Sì 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 Due Eh vabbè che noia Una terra What? Squagliati Ma sono morti entrambi instant Perché io ne ho buttato una terra E tu contemporaneamente Ucciso l'altro Come il pane Ah ah Lì sono altri due Vabbè basta ragazzi Bello sto game O forse altri tre Due sicuri Cavolo vorrei luttarli quelli Sembrano che avranno un botto di roba Vero? Arrivano Ci sto coprendo un attimo A questo lato E arriva anche alla zona Tra 40 secondi Per arrivare Ok Dove sono? Sotto di noi Oh Lo vedo uno Te lo meriti Amico Te lo meriti C'è anche l'altro sotto Colpito 28 di shield Colpito 38 33 Eliminato Pere Eh Stiamo massacrando Eh ci sta andando bene Sì Va bene Allora vado a luttare quelli Ok Non fai tempo Ma li voglio Sì che faccio in tempo C'è la zona Faccio in tempo Dai non botto di roba Steph Arma nuova Un sacco di colpi Eh colpi materiali Che bello quel pompo nuovo Oh cavolo Ci sono due player di fronte a me Erano pieni di roba Sto scappando Ho preso al volo Ci sono due player qua No ce ne dobbiamo andare Eh lo so Ciao Giona Lo so Infatti loro sono Siamo 10 Quindi ci non abbiamo Stanno correndo Spero non ci abbiano visto Hanno la cosa per saltare Ok Almeno sono a posto Tanti proietti Albero qui di fronte a noi Eh te l'ho detto Sono loro Ah proprio così tanto di fronte Sì 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 è quello il problema Io pensavo fossero un po' più lontani Accidenti Uno quasi a terra Esatto uno è bassissimo Ma quale l'altro? Eh sì Io quello di destra ho colpito Ho colpito quello che non stavi colpendo tu Io ho distrutto l'altro E io l'altro Uno a terra Ricarico Quasi ucciso Ok bravi Io sono 11 kill Io 2 Lei stai prendendo tutti e tu Vabbè però io sto colpendo tanto Quindi non puoi dire nulla No no ma infatti è proprio Stiamo facendo da buon supporto Era proprio per dirti Cavolo stiamo sfasciando tutto Sì sì stiamo giocando bene Ok Eh ci siamo equipaggiati bene Questa volta è quello Dov'è il loot? Forse è qua Sì è morto in alto Ah eccolo Ok C'è uno scarso e non ce l'hai ancora? Sì Lo vorrei parecchio Cambio arma Allora 2 contro 1 Ok Ah va 15 band Vabbè sei matto 2 mele Allora l'ho visto È fuori dalla zona Sta costruendo in questo momento A nord Ok Mangiati le mele Sì è quello che sto facendo Ok mi riempio Arrivo a 95 Non ce n'è un'altra Ok Sì 100 Perfetto Ti sono recullata Ma lì? Io l'ho visto lì Ti giuro Ho visto costruire in quel momento Proprio le cose che si stavano costruendo Sì sì avevi ragione lì Eh infatti te l'ho detto Eh quanto costruisci Ho tanti colpi amico Lo vedo è sopra Nelle scale di sopra Perché attraverso col termico Riesce a vederlo un minimo Ok Ricarico Pronta? Yep Che si fa? Ma Mi è sbazzato dall'altra parte Non aveva molto senso Ci siamo avvicinati Colpito 35 di shield 35 quindi 70 di shield tolti Fallo esplodere Grandi Bel game questo dai 12 e 2 Farei la grafica Low non serve a nulla Abbiamo giocato anche Anzi abbiamo giocato meglio Quindi Ma perché te l'hai detto Io gioco sempre così Eh quindi è andato bene Faremo un altro match E facciamo quell'aig Tecnicamente volevamo fare un video In cui c'era subito il confronto Ma è durato troppo Abbiamo vinto Lo lasciamo così Anche perché poi Fai una figuraccia a priori 14 kg totali così È andata così Vabbè comunque Bella win Ci sta la grande La dimostrazione Che tutto l'uno Non è un problema Ripeto State attenti agli hertz Della scherma Ma ad esempio Io gioco con 60 Che è all'incirca al minimo Certo State attenti agli fps Ma con tutto l'uno Non dovrebbe scattare Manco con un pc Di 10 anni fa Quindi Davvero conta davvero poco Pensavo sinceramente Che la view distance Fosse un qualcosa di Molto importante Anche io E invece io non ho capito Che cavolo è Cioè credo semplicemente Che li vedi un pochettino Meno renderizzati Ma li vedi Esatto Io invece pensavo Che vedessi a meno distanza Anche io E invece no Questa cosa infatti Quello pensavo Sarebbe stato un problema Invece In ogni caso Lasciate like Se questo video vi è piaciuto Qua sotto Comperanno altri video Iscrivetevi al canale Cliccate campanellina E ci vediamo Nel prossimo video Ciao ciao